Douglas Costa all'attraversione per Higuain! Si sblocca il Pipita! 2-0 Juve! Torna al gol Higuain! 10 in campionato! E la Juve la mette in cassaforte! L'azione che parte da Barzagli, il traversone di Douglas Costa posizione regolare per Higuain, uno sguardo al guardaline parte l'esultanza torna a segnare in campionato, cosa che non accadeva da sei partite Gonzalo Higuain e adesso è pressoché ufficiale la Juve sorpassa momentaneamente il Napoli in classifica